sono sceso da fonte canale guardate qui c'è un pompe e anche qui c'è un'acqua l'acqua peraltro è anche pulita vedete forse c'è il dipolatore si però qui un pezzo di tubo secolo anche se ha a queste piccolore e va sotto e lì c'è la piantaggine sembra la piantaggine quella lì mentre questa qui non è l'ottica ci sono mi chiede lo stico ma non lo stico e mi sto a scivolare quindi mi chiede la bici e vado con le lungo è bella la passeggiata ecco un altro rio qua è tutto un rio